Vediamo chi è l'influencer dell'anno. E il vincitore è... Loretta Grace. Loretta, vieni sul palco! Eccola! Brava! Fa molto Hollywood fare così. Benvenuta. Lei finalmente ha la sorpresa da Hollywood. Oh my God! È l'unica che l'ha fatto, brava! Complimenti. Vuoi dire una parola? Vieni, tesoro, è un premio. Non è Equitalia, vieni. Non pensavo davvero di vincere, sul serio. Non sto scherzando. Io ci credo. Grazie a tutti. Non avevo preparato neanche un discorso. Meno male, anche perché siamo in ritardo. Grazie, Loretta Grace! Grazie mille. Grazie mille, Loretta. Complimenti. Grazie.